How to improve your supply chain Gli attori della supply chain estesa non sono più focalizzati esclusivamente su costi ed efficienza, ma stanno lavorando soprattutto al raggiungimento di target ambiziosi e di nuovi KPIs, come la riduzione delle emissioni di CO2, l'incremento dei livelli di servizio, il miglioramento della tracciabilità e la riduzione dei consumi e degli sprechi. Oggi è possibile raggiungere dei miglioramenti di processo globali e significativi solo puntando ad un next level di ottimizzazione della supply chain, basato sull'integrazione, la collaborazione e la visibilità, trattando la supply chain come un unico processo e non come un insieme di silos separati, aiutati in questo dal ruolo centrale della mobilità. La maggior parte delle aziende innovative, leader nella logistica, si stanno muovendo per condividere una nuova supply chain basata su processi logistici ottimizzati, collaborativi e condivisi. Le piattaforme di cloud collaboration combinate alla mobilità sono un fattore chiave ed abilitante per la gestione trasparente di una nuova generazione di processi condivisi tra retailer, manufacturer, logistic service provider e altri attori della supply chain, fornendo uno strumento efficace a supporto del flusso di merci e informazioni, garantendo visibilità, abilitando la collaborazione e l'integrazione dei processi logistici e migliorando lead time, transportation e warehousing efficiency. Tutto questo oggi è realtà e consente di controllare la tracciabilità di una spedizione dal proprio ufficio, monitorare i trasporti delle merci durante la loro esecuzione, gestire in mobilità il processo di consegna POD, claims lavorare per eccezioni ricevendo in tempo reale notifiche sui problemi Cloud & Mobility consentono di migliorare i processi esistenti end-to-end visibility, claims management cambiare i processi logistici attuali dematerializzazione, collaborazione orizzontale e verticale Future is now